Nelle settimane scorse sono decorsi i termini per presentare le osservazioni al progetto di nuovo impianto eolico che dovrebbe sorgere in Toscana ma che riguarderà anche le marche perché impatterà anche sui territori di alcuni comuni marchigiani come Carpegna, come Pian di Meleto, Mercatello sul Metauro, Borgo Pace o Frontino. Questo progetto prevede la realizzazione di 6 pale, alte oltre 200 metri, circa 220 metri che saranno realizzate proprio in un territorio incontaminato e di rara bellezza, un territorio che è in grado di attirare ogni anno migliaia di visitatori e che per quelle aree di confine rappresenta la più importante dell'industria, ossia l'industria turistica. Pensate inoltre che una di queste pale sarà realizzata a 80 metri dal parco del Sasso Simone e Simoncello, che il progetto comporterà la realizzazione anche di un elettrodotto lungo oltre 10 km che attraverserà i territori di alcuni di questi comuni, oltre alla realizzazione di stazioni di stoccaggio, di strade di servizio, di cavi interrati e naturalmente durante le lavorazioni anche di numerose aree di cantiere. Tutto ciò avrà un impatto enorme che stravolgerà il territorio dal punto di vista identitario, dal punto di vista ambientale, paesaggistico, dal punto di vista anche storico e culturale. Si formerà una ferita insanabile. A tal punto mi chiedo se c'è un ambientalismo che vale più di un altro. La giustizia amministrativa ha risposto a questa domanda dicendo che si sta commettendo un errore, quello di seguire un pensiero totalizzante che si sofferma solamente su alcuni aspetti. Perché se è vero che questi impianti hanno un carattere, una valenza ambientale, questo carattere non può cancellare tutti gli altri interessi ambientali, anche quelli storici, culturali e identitarie. Per tutto ciò ho presentato in questi giorni una interrogazione al Ministro dell'Ambiente e a quello della Cultura. Per tutto ciò sostengo la battaglia di quei sindaci, di quei territori e di quelle popolazioni che si dicono contrarie a questo impianto eolico.